Guarda, riguarda, li sbagliano tutti i passaggi questi figli della me- Così come a sto co-contro gli riesce tutto Ah, ma mi so pressing Stucane pecora Pressa stupare palla Oh, è finalmente il momento di provare questi giocatori delle redivisie Che tanto mi avete chiesto, non si sa per quale motivo Interessano a tanti di voi Let's go, sblocchiamo questo bustacchione da junk Eh, ma chissi si chiama Justin Ma io chissi si chiamano Justin Sono tutti dei mezzi predestinati Scarpa rossa della marca fottutamente giusta, come potete vedere Tiene pure una maglia a manica longa sotto Sì, 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 una bella barbette, bravo Allora, però chissi tiene un capello veramente bello in game Cioè, onestamente, c'è posta 800.000 credit Tipo uno con i capelli distrati Guarda che cava Sembro io quando andavo su Pro Club Ma faceva esattamente a cussire Ma io mi ha studiato E ci c'è una gruppo faggiorata Però, eh Ma quanto è pesante Sand Ma Ron, ma stu Comand è possibile? Ma Ron è sempre fracido Ma Ma comunque, guardate Nonostante le gambette, corre un botto questo Pure che siamo su PS5 Bigelove Attenzione, Comand Una buona finalizzazione per Comand Non me lo sarei mai aspettato da lui Dato che puntualmente lo insulto in tutte le sue versioni Madonna, ma stu Tatic Ma sta a piezza Buona Boh Bra No, ma stu Tatic ci sta inguaiato Vi giuro, non si gira Ma guarda Oh Para stu portiere Ma danno Comunque stu Gertruid Automatico Zero Pro Chiam Xavi Inventa Crea Ora, corre 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 Bigelove Eh, attenzione Tatic Ma che fai Tatic Oddio Comand Con una botta di culo Va via Ma stu Comand Non corro Ma io non ce sto a credere Guardo Bravo Kipa Comunque stu portiere Bello giugatore Mi dà ad esempio Molta più sicurezza di Ederson Donnarumma E metti sto piede Maledetto Simons Non metto per Non metto per Madonna Comand Ma Ma che controllo Palla Oh Kudus Boom Non malaccio Quel Kudus Su PS4 Vedete Sto Simons Di buono C'è il fatto Che spesso È in anticipo Non è automatico Che forte Sto Simons No Bravissimo Qui Simons Ma vaffanculo Sto comando È sembra Fracet Quindi Recap Di questi giocatori Abbiamo provato Grazie a Junkie Scuola Futti Universe Partiamo da questo Bigelò Portiere SBC Che ho fatto Solo per linkare La gente Qua e là Allora vi dico Se avete La malsana idea Di farvi una squadra Con questi giocatori Del campionato Olandese Cosa che io trovo Abbastanza folle Ma comunque Se vi serve Questo portiere Per linkare Sappiate che è un bel Portierino Para un bel po' Molto affidabile Molto più affidabile Di tanti portieri Strautilizzati Quindi non mi è dispiaciuto Per niente Ovviamente Quante sono 10 partite 11 partite Non bastano Per giudicare Come si deve Un portiere Però mi ha dato Un'ottima impressione Così a impatto Gli do Un 7 e mezzo Ve lo consiglio Vale quei 30.000 crediti Se vi serve Per linkare Per quanto riguarda Questo Gertruid Giocatore Estremamente Average E' bello Rapido Per carità Ma non è per niente Automatico Palla al piede Non vi da mai Sicurezza Perché comunque Rimane un 3-3 Avete sempre il dubbio Che possa sbagliare Qualche passaggio Col piede Debole Non si riesce a saltarluo Aggressività Quella che è Le intercettazioni Pure Quindi Tralasciando Quelle che sono Le stats Che sono anche Buone In game Poca Poca Roba Se volete utilizzarlo DC Poi Il body type Non è ottimale Per un DC E soprattutto Gli interventi automatici Niente di che Quindi Pochissima roba Come stile Intesa Un'ancoretta Come voto Gli do un 6 Ma non ve lo consiglio Assolutamente Quest'altro tizio Qui Coach Dovrebbe essere Un discreto Centrocampista Per fare la doppia fase Abbiamo Un brutto Per me Di sti tempi 3 mosse abilità 5 piede debole Top 1m75 Body type Pessimo Per me Per un centrocampista E come sapete Per me I centrocampisti Su questo gioco Devono essere Oh Dei giganti CDC Alla viera Eccetera Oppure Posso anche Passarci Su dei centrocampisti Piccoli Ma devono essere Molto tecnici Anche lui A livello di automatismi Difensivi Veramente Scadente D'altra parte Vedo un 80 Direttura difensiva Nel 81 Di intercettazioni Giocatore estremamente Average Non ci vedo neanche Un buon CC O COC Datele 3 stelle skill E Insomma Poca roba Via Come essere intesa Gli abbiamo messo Un'ombretta Come voto A questo Gli do un 5 e mezzo Veramente Insignificante Mezzo Campo Per quel che mi riguarda Kudus Giacatore un po' ambiguo Devo dire la verità Perché lui è 1 e 77 Pessimo piede debole Si sente tutto Quel piede debole Però onestamente Non mi è dispiaciuto Come esterno Su old gen Su next gen Niente che Però su old gen Devo dire L1 corsa Prendeva un'ottima velocità Proteggeva palla Dai terzini Dato che ha 90 di forza Ma è un ottimo 90 di forza Perché è abbinato A 99 di agilità E 99 di equilibrio Quella reattività Onestamente Non si sente più di tanto Per cui lui è un giocatore Che va utilizzato Largo Per tra dritte Per dritte Per poi cercare Di passare il pallone Al centro Senza Metterselo sul piede debole Altrimenti Ne vengono delle palle Svirgolate Incredibile Evitate di utilizzarlo In attacco C o C Perché non ha Le caratteristiche Di sti tempi Per fare quello Come voto Da esterno Gli do un 6 Più Su PS4 Un 5 e mezzo Su Ve lo consiglio Ma neanche su PS4 Nonostante sia Buona reel Come stile intesa A questo Gli abbiamo applicato Predatore Non lo utilizzerei Come Ada Come CC Perché Non ha un body type Ingrumbrante Ha dei work rate Pessimi E delle stats Difensive Altrettanto Scadenti Quindi sarebbe Un uomo in meno Praticamente Mezzo campo Lasciate perdere Questo come Giocatore Per la doppia fase Coman Altro giocatore Me Questo qua Costicchia Ha delle stats Veramente Top Però in game Per me Continua ad essere Deludente Da uno con ste stats Ci si aspetta Tanta roba Una specie di Mbappé Invece ci si ritrova Un giocatore Che è veloce Ma non Velocissimo Per lo meno Non veloce Quanto dicono Le stats Per carità Ho visto Quelle poche volte È stato chiamato In causa Una discreta finalizzazione Una buona finalizzazione Se la cavicchia Con i passaggi Però Quello che più Mi triggera Di sto giocatore È la reattività Ma non come stats Ma è proprio in game Chissà è come se Quando cercate Per girare rapidamente E con catenale skill Faccia una fatica Disumana Eppure C'è un bel body type O tanta di forza Che è un parametro Perfetto Che non è Ne troppo Ne poco Comunque Veramente Deludente Per me sto comando Soprattutto su ps5 Su ps4 Bene o male Doppi passi Oppure alle 1 corsa L'accelerazione Ce l'ha Però quello che tilta È il modo in cui Vi girate E con catena Le skill Quindi Io sto tizio Lo eviterei Anche perché 3 di piede debole Di questi tempi È scandaloso Sia per un esterno Che per un attaccante Per un cioci Si è comportato In maniera simile Su entrambe le console Un po' meglio Su ps4 Per tali motivi Come sentite Su un cannoniere Come voto Gli do Un 6 Dai 6 6 più Su ps4 E un 5 e mezzo Su next gen Un voto Anche figlio Del fatto Che questo Costicchia E ripeto Uno con ste stats Dovrebbe rendere Molto Di più In game Tadic Allora su questo Avevo un bel po' Di aspettative Perché Lui Può diventare Langty È un 5 e 4 1 metro e 81 Quindi ho detto Questo sarà un Langty Magari non con un body type Da gigante Ma che ha Delle ottime stats Di velocità Che abbinate a Langty Gli danno quello scatto Fulminio L1 più corsa Oppure In uscita Dai doppi passi Per carità Prende una Buona velocità Ma non dà mai L'impressione Per me Di essere un Langty Questo Poi La finalizzazione Onestamente È molto buona Tira delle Granseggiate Volendo questo Si può utilizzare Anche C o c Perché i passaggi Sono buoni Ma c'è un però Su next gen Ma in realtà Su tutte e due Le console Questo soffre Un botto Quell'80 Di agilità Che abbinato Ad un 92 Di forza Lo rende Molto Macchinoso Nello street E è un peccato Si perché Poteva venirne fuori Un gran bel giocatore Quindi ricapitolando Next gen Una buona velocità Ma non sembra Un Langty Ottima finalizzazione Passaggi Se la cava Molto deludente Nel dribbling E Deathsoul Invece Su PS4 Pochissima roba Non va via Pesante Gli rimane Giusto Quella finalizzazione A ucci tutto ciò Non vi consiglio Assolutamente Questo giocatore Nonostante Sulla carta Come Stelle skill Tutto sia Valido Oddio per carità 100.000 Passacrediti Mezzo li potrebbe pure Ma perché mettere in campo Questo che è pure Difficile da ibridare Quindi Per me Mai Nella hit Come stile intesa Un falchetto Per dargli il Langty Come Poi Non mi venite a dire Lo stile intesa Per boostargli l'agilità Rimane un tronco Quindi tanto vale Boostargli La velocità Le stats di tiro Al massimo Dato che L'ho utilizzato Più che altro A proposito A me Più che Da attaccante Questo Mi è piaciuto Messo leggermente largo C.O.S Perché Un minimo Dritto per dritto Lo si riesce ad utilizzare Anziché per vie centrali Dove fatica un bel po' Tutto come voto Gli do Un 6.5 Su next gen E un 5 Su old gen Dove Lo ritengo Veramente Poca poca Robba Infine Simons Per difendere Per difendere Non si attacca All'uomo Non fa Interventi automatici L'unica cosa Che fa ogni tanto È mettersi davanti All'uomo Che va ad intercettare Grazie a quella aggressività Ma Non va bene Per fare la Doppia fase Questo Al limite Deve fare Il C.C. O il C.O.C Però c'è un problema Per me Un C.O.C Su next gen Deve avere Un minimo Di fisicità Un body type Deve avere 5 stelle skill Per dirvi Per me Pagliè È nettamente Superiore A questo Simons Da C.O.C Che protegge Palla Si gira Skill Fa Questo qui Vi ritrovate uno piccolino Con cui fate fatica A girarvi Con 4-4 Viene spostato Da chiunque E fa fatica A andar via L'uomo Nonostante Dia un'ottima sensazione Di velocità Però I lenghti I vari centrocampisti Lo distruggono Quindi su next gen Per me Va bene C.O.S C.O.D C.O.C Magari se volete Pure esterno Ma è Poca roba Poi Passaggi Niente da dire A livello di agilità Si gira 100 volte Su se stesso Un buon Sprint Boost Però È un giocatore Che alla lunga Vi triggererà Non poco Invece Su old gen È un Ottimo C.O.C Perché Con gli sprint Boost ball È estremamente Reattivo Agile Finalizza anche Molto bene I passaggi Sono eccezionali Si rende molto utile In mezzo al campo Grazie a quella Sua aggressività In conclusione Per me Per next gen Spendere 800.000 Crediti Per questo È follia Su old gen Fatelo solo Se siete Dei fanboy Ma è pure Complicata Link Non ne vale Non ne vale mai La vita Non ne vale mai La pena Come sintesi Gli abbiamo applicato Un'ancoretta Ma se lo volete Utilizzare C.O.C. Va bene Anche un falco Come voto Io a questo giocatore Gli do Un 6 E mezzo Su next gen E un 7 E mezzo Su old gen Ma Non Ve lo consiglio Assolutamente Perché ci stanno Tanti giocatori Superiori Per dirvi Lo stesso Paillé Detto ciò Io vi Ringrazio Per aver visto Questo video Fatemi sapere In commenti Quale prossimo Play di cui Lo vedete Vi è stato Bu Alla prossima Per favore Mi fai tico tico E mi saluti Tico 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 Giovanni Ciao Un mega bacione Per Giovanni Ciao E chi Tutututututu Eh Perché ha detto Il suo No Con tanto Di tico tico Eppure Una liccata Erecchia Eh Ovviamente Che la liccata Erecchia Con tanto Di impastamento Da saliva Il tutto Finalizzato A ricordano Grande A zerbinotte Ma voi Credete Che chi L'ha così Meritiamo L'estinzione Stasera Ho deciso Di parlare La lingua Della verità Della verità Della verità Della verità